Ben trovati cari amici radioscoltatori e chi ci segue in video sulla nostra pagina Facebook. Oggi è lunedì 27 maggio, il giorno post elezione. Andiamo subito a sfogliare i giornali di oggi per vedere cosa è accaduto ieri con il voto in Italia e anche nel resto di Europa. Apriamo subito il Corriere delle Alpi. Titolo per la pagina principale, la copertina, l'Europa resiste ai sovranisti, in Italia un trionfo per la Lega. Salvini supera di slancio il muro del 30%, nel nord-est più del 40%, sorride il PD che va oltre il 20, i 5 stelle in calo di 10 punti, in Germania vince la Merkel, la grande sorpresa arriva dalla Francia dove Le Pen supera Macron, boom di verdi e liberali. Nel giorno in cui i sovranisti pur con le dovute e pesanti eccezioni non riescono a sfondare nel resto d'Europa, i primi exit poll dicono che Matteo Salvini avrebbe portato la Lega oltre il 30%, con una crescita a due cifre rispetto al 17,2% delle politiche dello scorso anno. L'altro dato politico forte è il probabile crollo del Movimento 5 Stelle, che perde 10 punti percentuali dopo un anno al governo dal 32 al 22 e così il PD di Zingaretti, stimato attorno al 22,5%, sogna il sorpasso. Il governo tiene ma il premio è per il capitano, nel derby dei populisti nostrani ha vinto il governo, un governo dominato da Salvini, il bipolarismo litigioso giallo-verde mantiene un radicamento altissimo nel elettorato. C'è poi un'analisi, possibile ritorno al centro-destra tradizionale. Infine, dopo le tracce degli exit poll, arrivano le prime proiezioni fondate su voti realmente espressi. Si tratta naturalmente di approssimazioni, ma il terreno diventa già più solido. Andiamo in provincia di Belluno. 8 comuni hanno già il primo cittadino, ad Alleghe si festeggia, infatti 10 erano i comuni con una sola lista candidata, quindi il candidato sindaco doveva sfondare il quorum che è stato superato in 8 comuni. Arriveranno invece i commissari a Lozzo e Voltago. Due candidati sindaci sconfitti dal quorum sono quelli di Lozzo e di Voltago dove arriverà il commissario. Cambiamo argomento. A Olimpiadi 2026 a Losanna sarà presente una delegazione di peso. Si sta preparando la delegazione che andrà a Losanna per l'assegnazione delle Olimpiadi 2026. Si parla di una nutrita rappresentanza del mondo imprenditoriale, politico e sportivo italiano. Un punto a favore di Milano Cortina, già sottolineato nella relazione dei commissari del Comitato Internazionale Olimpico. Ancora grande foto, qui siamo nello sport. Leggendario Belluno, grande festa per la Serie B. Il Darold Belluno ha completato l'impresa. Serviva un set sul campo del Bassano nella seconda finale per la promozione in Serie B. I ragazzi di De Battista hanno chiuso subito la pratica. Il resto della gara è stata una semplice formalità. Gli articoli sono di Pazuc. Interventi in Alpago per la frana, opere di difesa per proteggere le abitazioni a rischio frana. Oggi iniziano i lavori di costruzione della strada che porta sopra la frana di Schiucaz per poter intervenire e si pensa ad opere di difesa per proteggere le case della frazione. Andiamo al primo sfoglio dedicato alle elezioni. A livello nazionale vola la Lega di Salvini. Primo partito, crollo del Movimento 5 Stelle. Il PD vede il sorpasso. Europee nelle proiezioni. Carroccio oltre il 30%. Il leader, l'esecutivo va avanti, i grillini perdono oltre 10 punti. L'articolo affirma di Gabriele De Stefani. Nella pagina si vede uno schema, una tabella in cui sono riportate le proiezioni. La Lega, in base alle prime analisi, il dato di ieri sera alle 23.40, si attesta fra il 27 e il 31%. Il Movimento 5 Stelle fra il 18,5 e il 22,5. Il PD tra il 20 e 5, il 24 e 5. Forza Italia tra l'8 e il 12. Fratelli d'Italia fra il 5 e il 7%. Più Europa fra il 2,5 e il 4,5. Europa Verde fra l'1 e il 3, così come la sinistra. E altri partiti fra l'1 e 5 e il 3 e 5. Scenari diversi rispetto a quelli che saranno prospettati dopo l'Europa del 2014. Un balzo, quello della Lega, che diventa quasi inimmaginabile se proiettato nel lungo periodo. Nel 2013, quando l'allora segretario della Lega Lombarda prese le redini di via Bellerio, il carroccio gareggiava attorno al 4%. L'altro dato politico forte, sempre se gli exit poll e le prime proiezioni troveranno conferme nei voti reali, è il crollo del Movimento 5 Stelle, che perde oltre 12 punti percentuali dopo un anno al governo. Il PD del mite Zingaretti, stimato attorno al 22, può sognare il sorpasso al secondo posto. Dietro Forza Italia prosegue nel suo lento declino, scendendo a ridosso di quota 10% e Fratelli d'Italia sale vicina al 6%. Difficile per Europa più e sinistra per l'Europa, riuscire a superare la soglia di sbarramento del 4%. È fronte sovranista, ma l'Europa regge l'urto a pagina 4. I dati relativi anche agli altri paesi europei, da Parigi a Varsavia, avanti i nazionalisti, Le Pen davanti a Macron in Francia, volano i verdi, affluenza record ai seggi. Il Corriere delle Alpi riporta poi, oltre a un grafico, anche un approfondimento, così la nuova Europa, con le prime proiezioni che riguardano tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. C'è il fronte sovranista e si fa sentire, ma l'Europa regge l'urto in base agli exit poll, nonostante i risultati importanti dei nazionalisti, in parte dei paesi al voto, a cominciare dall'esito eclatante della Francia, dove il partito nazionalista di Marine Le Pen risulta essere primo con il 23,2 dei voti davanti a Macron. Le forze tradizionali, socialisti e popolari perdono la maggioranza che finora ha retto gli equilibri in Europa. Dovranno allargarsi ai liberali, intanto il vecchio continente è attraversato da una grande onda verde, spinta dai temi della tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Pagina 6 e 7 sono dedicate al Veneto, in Veneto trionfa la Lega, il PD recupera consensi caduta dei 5 Stelle, siamo in linea quindi con le proiezioni a livello nazionale. Al Carroccio 6 seggi con il 40%, 4 a IDEM, 2 al Movimento 5 Stelle, 1 a Fratelli d'Italia e SVP, Forza Italia a rischio zero. Il politologo nell'articolo di Filippo Tosato c'è un commento, il risultato deludente di Forza Italia sancisce l'esaurimento del ciclo berlusconiano. Il Veneto è salviniano, colpisce a dispetto della partecipazione storica decrescente alle europee, l'affluenza del 63,5% tra le più elevate in Italia. Il commento a caldo dello studioso direttore scientifico dell'osservatorio elettorale del Consiglio regionale. Nonostante una campagna in tono minore, con scarse risorse a disposizione dei candidati e sebbene il Parlamento di Trasburgo non brilli per incisività, gli elettori hanno manifestato grande interesse al futuro politico dell'Europa e la mobilitazione ha investito soprattutto le componenti dell'elettorato più portate al voto. Leghisti, dem, destra. Pagine dedicate a Belluno, alle elezioni a Belluno. Primo piano, pagina 8 e 9. L'affluenza tiene, 8 sindaci già eletti, a Lozze e Voltago arriva il commissario. Gli articoli sono a firma di Renia Liprandi. Quorum superato ad Alleghe, Comelico, Danta, Domegge, Lavalle, Perarolo, San Nicolò e Pedavena rimaste però in bilico tutto il giorno. Quindi quelli che si possono già considerare che sono di fatto nuovi sindaci sono Danilo De Toni ad Alleghe, sta un nuovo polacco Marco in Comelico, Ivano Mattea a Danta di Cadore, Achille Barnabò a Domegge, Ezio Zuanel alla Valle a Gordina, Nicola Castellaz a Pedavena, Svaluto Ferro a Perarolo di Cadore e Giancarlo Iannese a San Nicolò di Comelico. Due invece commissari, solo a Lozzo di Cadore e Voltago a Gordino la percentuale dei volontari si è fermata sotto il 50% e da oggi in municipio si insedierà un commissario prefettizio che rimarrà operativo fino alle elezioni del prossimo anno. La comparazione tra l'affluenza alle urne per le elezioni europee e quella per le comunali tuttavia evidenzia che sia Gianni Martagon, aspirante sindaco di Lozzo, che Alessandro Lazzarini, candidato a Voltago, hanno pagato più di altri gli iscritti all'Aire, cioè l'anagrafe italiani residenti all'estero. Ovunque infatti c'è uno scarto tra lettori alle europee e alle comunali perché gli iscritti all'Aire possono votare nei paesi dove sono emigrati, ma non sono mancati quelli che hanno rifiutato la scheda delle elezioni comunali. A Voltago la differenza è davvero corposa, 53,50% la percentuale dei votanti alle elezioni europee e solo 44,51% a quelli delle elezioni amministrative. Per quanto riguarda la consultazione europea cala lievemente l'affluenza alle urne, quindi parliamo qui della provincia a livello complessivo, ferma al 53,53% rispetto a cinque anni fa quando in provincia di Belluno andò al voto il 54,29% degli elettori. Un commento poi l'articolo nel taglio basso per il voto in comune di Borgo Valbelluna, nato dalla fusione fra Trichiana, Mel e Lentiai, dato basso rispetto agli altri comuni. Oggi è il day after a Borgo Valbelluna, il giorno dopo le prime storiche elezioni del nuovo ente amministrativo della Sinistra Piave, in attesa di conoscere i dati ufficiali relativi ai voti che hanno portato la nomina del nuovo sindaco e dei suoi consiglieri, ci soffermiamo sui primi dati in nostro possesso relativi all'affluenza, l'articolo lo scrive Dante Damin. Per quanto riguarda i quattro seggi di Lentiai, di cui due collocati nella sede delle scuole medie e altrettanti alle elementari di Villa Piana, alle 12 sono andate a votare 587 persone su 3.999 aventi diritto. Un calo rispetto alla tornata precedente, il territorio Zumellese vantava sei seggi dislocati alle scuole medie locali, due a Villa di Villa e uno a Carve, 1.343 sono stati gli erettori recatisi alle urne su un totale di 6.388 aventi diritto. A Tricchiana 960 votati su 4.650. Le percentuali quindi sono non altissime, un'affluenza a ribasso considerando quella degli altri comuni chiamati al rinnovo delle proprie amministrazioni. Si vedrà poi oggi quando si avranno i dati definitivi al termine dello spoglio. Ad Alleghe c'è stato anche già il festeggiamento per l'elezione del sindaco, abbiamo puntato sul programma più che sul rischio di un anno di stoppi, sindaci eletti con largo anticipo spiegano come hanno battuto il quorum soddisfazione e grande stimolo. Nella pagina dedicata a questo argomento il brindisi del nuovo sindaco di Alleghe Danilo De Toni con la sua squadra, a destra il paese di Lozzo dove arriverà il commissario. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo a firma di Irene Aliprandi che inserisce i primi commenti dei sindaci che si possono considerare già eletti in quanto hanno superato la soglia del 50%. Chiudiamo il lungo capitolo dedicato alle elezioni e andiamo alle altre pagine del Corriere delle Alpi. La prima di Belluno, ordinanza anti-smog, a Belluno restano le deroghe, lotta all'inquinamento atmosferico, i capologhi veneti puntano ad uniformare i divieti nelle fasce di allerta. L'assessore Gans, la nostra realtà è diversa, basta guardare gli sforamenti delle PM10. L'articolo è a firma di Alessia Forzin. Treviso detta la linea nella lotta all'inquinamento ma Belluno vuole mantenere una linea più morbida per quanto riguarda i limiti al traffico. In questi mesi gli assessori all'ambiente dei sette comuni capoluogo del Veneto si sono incontrati per continuare il percorso di lotta all'inquinamento atmosferico previsto dal patto padano. In Veneto si punta a definire un'ordinanza anti-smog applicabile in tutti i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Lo scorso anno infatti Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza hanno usato un modello ma lo hanno adattato alle esigenze delle loro realtà, prevedendo una serie di deroghe diverse per il transito dei veicoli nelle varie fasce di allerta, verde, arancione e rossa, fasce che dipendono dagli sforamenti dei livelli di polveri sottili registrati dalle centraline ARPAV e che comportano il blocco di alcune tipologie di veicoli in determinate fasce orarie. L'ordinanza è rimasta in vigore fino al 31 marzo e a ottobre bisognerà farne una nuova. A Belluno non dovrebbero esserci grandi novità, le deroghe dovrebbero rimanere, quelle che erano già state previste lo scorso anno e anche le strade vietate alle auto troppo vecchie non dovrebbero essere modificate. Su una deroga la Gans è d'accordo che serva uniformità, l'età degli automobilisti, c'è chi ha messo come limite oltre il quale si può circolare sempre i 60 anni, chi 65 e chi ancora i 70. Su questo aspetto i sette capoluoghi del Veneto cercheranno di trovare l'unanimità. Leggiamo pagina 13, l'articolo relativo alle Olimpiadi, al sogno delle Olimpiadi 2026, una delegazione pesante per l'Osanna, VIP e mondo economico a sostegno della candidatura. Zaia, il Boba, Cortina è punto fermo per noi, l'articolo è di Francesco Dalmas. I rumors anticipano che la candidatura di Milano-Cortina sarebbe in vantaggio di 10 voti, se tanti ne dovessero restare tali. Ma basterebbe perderne 5 per andare alla pari con Stoccolma, 6 per finire sotto. Da oggi al 24 giugno, la data fatidica del voto in casa Comitato Internazionale Olimpico a Losanna, l'Italia non può sbagliare neppure una mossa, soprattutto di carattere politico, e deve anche preparare una spedizione in terra svizzera che confermi tutta la sua potenza di condivisione, anzitutto. Si parla di una delegazione di 60 VIP, nel vero senso della parola, dall'ex campione tomba a Montezemolo, dai volti di Torino 2006, ai massimi vertici dell'economia nazionale generale Eni. L'articolo continua poi con un'intervista al governatore del Veneto, al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che si dice fiducioso. Chiudiamo il Corriere ed apriamo il gazzettino. Abbiamo ancora pochi minuti di tempo, quindi leggiamo le notizie principali, soprattutto quelle relative alle elezioni. La Lega sfonda, il PD sorpassa il Movimento 5 Stelle, proiezioni, il Carroccio vora al 32,9%, primo partito, ma nessuna crisi, si legge tra virgolette. I 5 Stelle calano al 18,9%, Dem secondi con il 22,2%, Forza Italia al 9,1%, Meloni al 5,8%, Piemonte in testa il centro-destra. Andiamo subito a vedere le notizie relative al Veneto, a pagina 5, il voto a nord-est. In Veneto Salvini arriva vicino alla maggioranza assoluta, si parla infatti del 48%. L'articolo è a pagina 5. In Veneto la Lega vicina alla maggioranza assoluta, in nord-est torna a votare più del 2014 e come tutti si attendevano premia la Lega i primi seggi scrutinati davano Salvini sul 38% in tutta la circoscrizione, addirittura quasi 10 punti in più in Veneto. Anche a nord-est, come a livello nazionale, il PD di Zigaretti è il secondo partito e bissa il Movimento 5 Stelle, in forte crescita Fratelli d'Italia, che dai primi dati raddoppia il risultato di 5 anni fa. Lo scrutinio, rallentato anche dall'assegnazione delle preferenze, è andato avanti per tutta la notte, ma i primi risultati parziali sembravano suffragare i sondaggi tenduti riservati degli ultimi giorni. E cioè in tutto il nord-est, che riunisce Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentinoto-Adige ed Emilia-Romagna, una Lega attorno al 38%, nel 2014 non raggiungeva neanche il 10%, e un PD sul 24%, un tracollo rispetto al 43% di 5 anni fa, ma in aumento rispetto alle politiche 2018. Differenti invece i dati degli altri partiti, lo scrutinio delle prime sezioni va sottolineato, parzialissimo, 1.318 su 11.652 dava il Movimento 5 Stelle al 10%, Forza Italia e Fratelli d'Italia praticamente pari a poco meno del 6%, a nord-est più Europa sembra superare la soglia con poco più del 4%, con questi risultati la Lega otterrebbe tra i 6 e 7 seggi, il PD tra i 3 e i 4, il Movimento 5 Stelle sicuramente 1 al massimo 2, Forza Italia probabilmente un solo seggio, dovendo scontare, dovere dare uno scranno in virtù dell'accordo elettorale alla SVP e un altro seggio a Fratelli d'Italia, ma la ripartizione esatta con i nomi degli eletti si avrà appunto soltanto oggi. Chiudiamo per questa mattina la rassegna stampa, vi auguriamo una buona giornata e vi invitiamo a continuare a seguire la programmazione di Radio Piave e le notizie pubblicate ora dopo ora sul sito internet e sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Vi daremo anche qualche dato in più aggiornato sulle elezioni e sui risultati che riguardano appunto la regione Veneto, la provincia di Belluno, ma anche le proiezioni a livello nazionale, proiezioni ormai non saranno più proiezioni ma dati quasi definitivi. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata, a presto.